Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi vedremo insieme un nuovo accessorio arrivato in casa Tessilan. Stiamo parlando di un prodotto essenziale, dalla linea molto elegante, semplice e facilissimo da applicare. Stiamo parlando dei manici Simples. Andiamoli a vedere insieme. Ecco qui i nostri manici necopelle. Come vedete è un manico semplice ma comunque comodo da utilizzare grazie ai moschettoni posti alle due estremità. La lunghezza è di 37 cm all'incirca che arriva fino a 45 compresi moschettoni. L'ampiezza è invece di 2 cm. Come vediamo i dettagli sono sempre nella colorazione argento per tutte le colorazioni. Il moschettone posto all'estremità ha una misura di 3 cm e un'ampiezza di 1 cm. Inoltre è girevole. Passiamo ora a qualche suggerimento per l'utilizzo. Questi manici sono perfettamente compatibili con il set Alex Queen. Possiamo applicarlo a questo set in diverse modalità. La prima che vediamo è quella tramite il moschettone. Noi abbiamo scelto i moschettoni da 18 mm, quindi apriamo il moschettone e lo agganciamo e lo uniamo al manico. Altra modalità di applicazione è quella di agganciare direttamente il moschettone del manico. Basterà aprire il moschettone in questa maniera ed agganciarlo. Ecco qui. Inoltre il moschettone rotante vi permetterà di agganciare il manico anche in quest'altro modo. Ed ecco qui il risultato finale. Come abbiamo visto quindi la modalità di applicazione è davvero semplicissima. Con i moschettoni, senza moschettoni, quindi potrete veramente abbinarlo a vari vostri progetti. Le colorazioni anche queste sono diverse, numerose, abbiamo tutti i colori basici, abbiamo anche dei colori più brillanti. Vi ricordo inoltre che queste colorazioni si abbinano perfettamente anche ai fondi in ecopelle disponibili in catalogo, quindi davvero le combinazioni e i modelli di borsa che potrete creare diventano davvero infiniti. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivare la campanella così da essere sempre aggiornati e seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tesla News!